Ci troviamo alla Trust Multiservizi di Pesaro di Via delle Carso, palazzo, dove questa mattina è stato presentato Alma Network B2B. Si tratta di un nuovo strumento, una piattaforma digitale completamente dedicata al business all'estero delle imprese marchigiane, alla loro internazionalizzazione in mercati emergenti come India, Emirati Arabi o Vietnam, mercati che si possono intercettare attraverso questi nuovi strumenti digitali, un nuovo prodotto completamente gratuito che è stato ideato dall'avvocato Matteo Gori, esperto di diritto commerciale internazionale. Questo portale è assolutamente innovativo nella misura in cui si basa su due strumenti che in questo periodo pandemico sono risultati vincenti, in particolare la digitalizzazione e quindi tutti i servizi verranno forniti esclusivamente online, e il network, inteso come rete di collaborazioni per permettere appunto lo sviluppo di questo progetto internazionale. Il portale è assolutamente e sarà assolutamente gratuito per tutte le aziende marchigiane che potranno entrare in contatto diretto con nuovi partner commerciali, trovare un punto d'incontro in interessi ed aspettative, al fine poi di organizzare dei veri e propri B2B virtuali, quindi matching virtuali tramite delle business room, dove potranno scambiarsi informazioni e documentazione al fine di intraprendere nuove relazioni commerciali. Ad affiancare l'avvocato Gori nella proposta di questo nuovo strumento, la Camera di Commercio, con questo progetto caldeggiato dal past president Alberto Drudi, strumento che sarà effettivamente online dal 2 di febbraio. Questo strumento è unico, uno strumento unico nelle marche, non ce ne sono altri ed è uno strumento che è soprattutto al servizio delle imprese, potrebbe essere anche in collaborazione con le Camere di Commercio, con le associazioni di categoria, con le singole imprese, uno strumento che deve essere visto non tanto in competizione ma in collaborazione con questi soggetti. Io lo definirei una fiera online per le nostre imprese, dove le imprese straniere possono entrare nel sito e visitare le nostre imprese ed eventualmente nel momento in cui incontrano imprese di interesse possono iniziare il contatto e quindi il business. È un fatto importante, soprattutto in questo momento dove il Covid non ti dà la possibilità di viaggiare perché se prima andavamo con gruppi di imprese all'estero e incontravamo decine e decine di imprenditori all'estero, oggi questo non è più possibile perché il Covid ti impedisce di fare questo. In più le imprese, come sappiamo, sono uomini e quindi gli uomini non hanno una gran voglia di volare in questo momento con tutte le difficoltà, dei problemi, le restrizioni che ci sono nei vari paesi con il rischio di fare quarantene in alcuni alberghi all'estero. Questo progetto invece, che è nato con la collaborazione e il supporto della Regione Marche, rappresenta questo grande servizio importante, innovativo e funzionale per le nostre imprese. Innovazione digitale con vocazione internazionale delle imprese, filosofie che si sposano alle idee, ad esempio, dell'Università di Urbino e della Regione Marche. Questi progetti sono importanti soprattutto per il sistema delle imprese, sempre più le imprese che vogliono anche internazionalizzarsi, hanno bisogno di servizi avanzati. Da questo punto di vista un rapporto con le università e i centri di ricerca è fondamentale. Noi abbiamo sostenuto dall'inizio questo progetto e siamo contenti che sia stato finanziato. È fondamentale in questo momento guardare al digital export come momento di salvezza rispetto alla difficoltà di partecipare alle fiere, di partecipare ad incontri fisici. La digitalizzazione dell'incrocio, del matching può essere la strada con cui le nostre imprese continuano a crescere sui mercati. La Regione Marche ha deciso da qualche mese di investire anche sulle piattaforme digitali e anche su supporti informatici e tecnologici che mettono in contatto domande e offerta e questa è una di quelle iniziative che crediamo possa essere utile in tempo di pandemia per continuare a fare incontri, per continuare a fare promozione dei prodotti ma soprattutto per far incontrare domande e offerta. Riteniamo che è la vera opportunità che noi possiamo mettere in campo e come stiamo facendo con quegli accordi sistemici che abbiamo fatto con Sace, con Simest, con ICE, con la Camera di Commercio, anche questo, con questo supporto sarà molto utile a far crescere i nostri imprenditori.